Subito in testa e ora ancora nettamente uno primo, l'altro secondo a meno di cento metri dalla conclusione della gara. Rieccoli all'attacco del podio, quasi gemelli alla nascita. Appena sette giorni di differenza fra Gregorio Paltriniere e Gabriele Detti, classe 94. Pienamente gemelli in piscina, soprattutto quando c'è da dare la caccia alla medaglia. Nei 1500 l'altro giorno di vario evidente, ora negli 800 sono più vicini, ma Super Greg è sufficientemente avanti con margine di sicurezza. Stavolta Gabriele non lotta neanche con l'Ucraino Romanciuk che è assolutamente più dietro. Si fa sentire anche il tifo degli italiani, anche stavolta a Paltriniere non manca di essere contro se stesso. Braccia e gamba in azione con il suo tipico incedere saltellante per migliorare. Anche in questa occasione il primato continentale che già gli appartiene va al tocco in questo momento. Vediamo anche il tempo, 7.42.33 è il record dei campionati, ma non il record europeo. Secondo Gabriele Detti, ancora Oro e Argento, Paltriniere, Emiliano Di Carpi, Detti, Toscano di Livorno, divisi dall'Appennino, sempre uniti dalle piscine e soprattutto dalle medaglie. Da Londra con Antonio D'Alessandri, Carlo Verna per il GR1.